Orecchini, anelli, spille e antiche monete, monili in oro dal valore di oltre 20.000 euro, ma anche denaro contante, frutto di truffe ad anziani consumate in varie località del nord e centro Italia. A recuperarli la postrada di Battifolle, che nel corso degli ultimi 15 giorni ha portato a termine tre operazioni. Nel primo caso è la truffa in provincia di Cuneo, dove un uomo e una donna italiani poco più che ventenni erano riusciti a raggirare una signora di 75 anni. Il malloppo, preziosi denaro, erano stati ritrovati nascosti all'interno del raggiseno della truffatrice. Il secondo episodio è invece in provincia di La Spezia. Anche stavolta i truffatori, due uomini italiani di 30 e 20 anni, erano riusciti a farsi consegnare 6.000 euro da un ottantenne, trovati occultati negli slip di uno dei due malfattori. In entrambi i casi la refurtiva è stata sequestrata e riconsegnata ai proprietari. Le quattro persone sono state invece denunciate. L'ultima operazione è ieri pomeriggio, quando la postrada ha beccato due truffatori italiani di 40 e 20 anni che avevano appena messo a segno un colpo a Firenze, dove avevano raggirato una donna di 59 anni. I due sono stati arrestati. Il bottino, denaro, monete preziose, gioielli in oro, è stato invece sequestrato e riconsegnato alla legittima proprietaria.